Qui si chiude la parte di questo mini corso su Google Presentazioni come avrete capito il trucco per creare presentazioni interattive sta tutto nell'uso creativo dello strumento Link come abbiamo detto, come chiaramente Link vuol dire collegamento quindi è facile capire che è lo strumento che ci permette di collegare fra di loro le slide indipendentemente dalla sequenza in cui si trovano dentro la nostra presentazione dato che fortunatamente a ogni singola slide, a ogni singola diapositiva di fatto corrisponde un indirizzo che possiamo utilizzare come Link il trucco per evitare di avere il problema dello scorrimento automatico è sempre basato sui Link e consiste nel prendere ogni oggetto presente nella diapositiva e linkarlo alla slide stessa per esempio qui prendo il titolo a cosa Link, alla diapositiva 3, quando partire questa casella di testo a cosa Link, a diapositiva 3, quanto partire la foto, lo sfondo che è scritto qua giù eccetera eccetera ok? Molto semplice l'altra cosa che non è obbligatoria ma è consigliabile è per non perdersi all'interno della struttura della propria storia delle proprie ramificazioni è quello di ricordarsi di dare un nome proprio a ogni slide io l'ho dato a tutti, a parte la prima, è diapositiva 1 e di dare in qualche modo un nome proprio come si fa a inserire il nome proprio? semplice si usa un layout dove è previsto il titolo e il titolo è il nome proprio della nostra diapositiva ok? ultimo consiglio prima di chiudere con Google presentazioni chiaramente dato che il lavoro da fare per mettere i link nelle caselle di testo nelle immagini nel falso sfondo eccetera eccetera è abbastanza lungo vi consiglio di creare uno o due modelli di diapositiva e di poi giocare con il duplica ok? come si fanno a duplicare le slide? semplice si fa modifica duplica e la nostra slide viene duplicata vedete? oppure se siete come me dei fanatici delle scorciatoie di tastiera utilizzate il CTRL D CTRL più tasto D e ottenete sempre la duplicazione della diapositiva ok? allora io vi saluto per il momento ci rivediamo nella prossima lezione e inizieremo faremo lo stesso lavoro sulla stessa storia ma non più dentro Google presentazioni ma dentro Google documenti a più tardi ok?